Benvenuti in un nuovo episodio di questa roba qua Oggi parleremo perché la droga Fin dall'antichità l'uomo ha sempre voluto uscire il sabato sera Per cercare di scappare dalla routine quotidiana E così facendo si doveva inventare delle cose per cercare di divertirsi Una volta soddisfatte le esigenze primarie tipo mangiare Si potevano provare quelle piante dal gusto sapore un po' allucinogeno Per magari, insomma, questa vita un po' monotona La clava, uccidire il rinoceronte, sgozza il vicino Cioè non è tanto divertente Con l'introduzione dei primi rituali con cui l'uomo cercava E di arrivare a capire e comprendere la natura che lo circondava Anche l'uso di sostanze frizzantine ha aiutato l'uomo ad avere le visioni Per cui lo spirito arrivava in sogno durante la seduta spiritica A dire guarda che Antonio va con tua moglie Là dietro la sequoia ci va sempre un cervo per ucciderlo E il capo branco in realtà sta tramando contro di te Perché vuole il tuo cavallo Insomma, alla fine si è visto che la droga non aiutava tanto Perché uno si faceva venire le paranoie E' per questo che adesso è vietata Fine Grazie 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 Grazie